Una pagina di politica, il Movimento 5 Stelle di Fano è intervenuto sui lavori del dragaggio d'emergenza al porto che stanno avvenendo in questi giorni. I grillini la reputano un'operazione parziale, costosa e non risolutiva. Per questo chiedono al Sindaco Sei di procedere ad un dragaggio profondo, di eliminare gli stoccaggi provvisori chiedendo l'autorizzazione a trasportare i fanghi stoccati nella vasca di colmata di Ancona via Mare. circa 20.000 metri cubi e di accordarsi con Enel Green Power per realizzare un meccanismo di raccolta al monte dei sedimenti che giungono dal canale Albani.